Buongiorno, sono Antonella della storica nascineria di Vito, non ce la faccio più, mandala con me, mandi quel pezzettino che era preso intero per piacere, buongiorno, buongiorno, sono Antonella della storica nascineria di Via Carratica e stiamo a Toscana in Bocca, presentiamo il... va benissimo, è venuto bene, ti posso guardare, buongiorno, sono Antonella della storica nascineria di Via Carratica e stiamo a Toscana in Bocca, io sono Marzia, e presentiamo il... non ce la faccio... non ce la faccio più, mandala con me! Buongiorno, sono Antonella della storica nascineria di Via Carratica e stiamo a Toscana in Bocca, Buongiorno, sono Antonella della storica nascineria di Via Carratica e stiamo presenti a Toscana in Bocca con il nostro piatto di saluti, pacchetta, salame, prosciutto, birordi e migliacci. Cosa sono migliacci per oldie? Venite alla Toscana in Bocca e lo scoprirete! Grazie!